buongiorno a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video in cui vedremo altre domande per la prova preselettiva concorso IMSS 1858 posti dal luglio 2003 è diventato obbligatorio la risposta da dare è il patendino per la guida dei motorini dal maggio del 1992 quali sono stati i presidenti della repubblica fino ad oggi la risposta da dare oscar luigi scalfaro carlo alzerio ciampi giorgio napolitano e sergio mattarella dal maggio 1999 quali sono stati i presidenti della repubblica fino ad oggi carlo alzerio ciampi giorgio napolitano sergio mattarella dal punto di vista stilistico l'ultima poesia montaliana è la risposta da dare è a parte apparentemente semplice e piana dal primo novembre 2014 il presidente della commissione europea è la risposta da dare jean claude juncker dalla rappresentazione schematica dei quattro punti cardinali e delle quattro direzioni intermedie scaturisce la cosiddetta la risposta da dare risposta rosa dei venti tante virgilio raggiungono l'uscita dell'inferno la risposta da dare è scendendo lungo il corpo di lucifero dante nel corso del viaggio iniziato nella selva oscura che lo porterà fino alla contemplazione di dio incontra beatrice simbolo della grazia divina e della teologia dove avviene tale incontro la risposta da dare è nel paradiso terrestre davanti alla parola taccapanni quale articolo è corretto usare l con apostrofo la risposta a dare de chirico e maestro della la risposta da dare pittura decreto legge vaccini del 2017 ha portato il numero di vaccinazione obbligatorie a la risposta da dare 10 da edalo è il nome del mitico inventore architetto e scultore legato a quale civiltà minoica della risposta corretta definito da bazin cinema dei fatti il neuralismo mostra tratti tratti comuni ed unificati di in modo fondamentale il lungo fondamentale messaggio di solidarietà umana nato dallo spirito antifascista e resistenziale tra i film più rappresentativi di tale filone cinematografico è stato insinito del premio oscar la risposta da dare è susha delle patate mangiamo la risposta da dare è fusto di che colore la maglia del venditore del tour de france gialla la risposta da dare di che colore la statua della libertà la risposta da dare verde di che materiale composta la fibra ottica la risposta da dare è vetro di che nazionalità è il quotidiano bild la risposta da dare è tedesca di che cosa è fatto il tofu la risposta da dare semi di suia di cosa si occupa il logopedista la risposta da dare dell'educazione fonetica di quale arciperago fa parte l'isola di mare timo la risposta da dare è egadi di quale arciperago fa parte l'isola di monte cristo la risposta da dare è toscano di quale catena montuosa fa parte il monte everest la risposta da dare dell'himalaya di quale città si impazzolino le truppe russe il 2 maggio 1945 durante la seconda guerra montiale la risposta da dare berlino di quale continente fa parte l'isola del madagascar la risposta della da dare dell'africa di quale corrente letteraria fu esponente vincenzo monti autore di una delle più famose traduzioni dell'iliade di omero la risposta da dare del neoclassicismo di quale corrente letteraria giacomo leopardi è uno dei più importanti esponenti la risposta da dare del romanticismo di quale delle seguenti opere e autore ludovico adiosto la risposta da dare orlando curioso di quale istituzione internazionale organo la corte internazionale di giustizia dell'aia risposta da dare onu di quale movimento artistico novecentesco piero manzoni è uno dei maggiori corrisponenti italiani la risposta da dare pop art di quale nazionalità è il quotidiano the sun la risposta da dare è inglese di quale nazione fu dittatore Mao Tse Tung dal 1945 al 1976 la risposta da dare è Cina di quale paese è capitale Kingston la risposta da dare è Jamaica di quale paese capitale Giacarta la risposta da dare è Indonesia di quale paese è stato eletto presidente nel 2014 Joan Mare Santos leader del partito sociale dell'unità nazionale la risposta da dare è Colombia di quale paese era generale dittatore francola la risposta da dare è Spagna di quale paese facevano parte la Croazia e la Slovenia la risposta da dare è Jugoslavia di quale penisola fa parte l'area continentale della Grecia la risposta è Balcanica di quale regione originario il vino Chianti la risposta da dare è Toscana di di quale regione d'Italia fa parte l'isola d'Elba la regione è la Toscana e quindi Toscana è la risposta corretta di quale regione d'Italia fanno parte le isole Eolie la regione corretta è Sicilia la risposta corretta è Sicilia di quale romanzo scritto alla fine del 1800 e protagonista Andrea Sparelli la risposta da dare è il piacere di Gabriele D'Annunzio di quale stato è capitale la città di Copenaghan la risposta corretta è Danimarca di quale stato è capitale la città di Elensky la capitale la risposta corretta è Finlandia di quale stato è capitale la città di Oslo la risposta da dare è Norvegia di quanti articoli composta la costituzione italiana 139 articoli e la nostra risposta Dim Sum Wonton e Yung Song sono tutti tipi di cucina la risposta corretta è cinese dipendono direttamente dalle Nazioni Unite ovvero operano sotto la sua salvaguardia varie organizzazioni con comiti di coordinamento delle differenti attività degli stati membri o con finalità umanitarie quale organizzazione internazionale sorta a Quebec nel 1945 si propone contro la fame e la povertà e l'incremento della produzione alimentare la risposta da dare è FAO dispone l'articolo 38 della costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ciò la risposta da dare tra l'altro in caso di disoccupazione involontaria il video di oggi termina qui per vedere altri miei video e prepararvi al concorso 1850 posti iscrivetevi al canale e attivate la campanella Grazie per la visione! Grazie per la visione!